ho creato un nuovo profilo e ho cominciato i video ironici che altro quindi fai i video che fanno ridere dai un cartone alla sedia scherzo su cose magari pesanti scusa c'era una mosca ciao Jennifer ciao come stai? bene tu bene bene cosa ne pensi della lediona? ho tenuto e millimum veniam qui snostrum exiguitorsi entiam ultim corporis usciptim laboriosimim nisi uta liquidex ax camodi conseqatur qui saute giure repreditim volutateveli tessu sceilum dolore e ho fuggiatim la pariatur exceptur sin obsegatet cupidatet no proietet su di colpa qui ufficio deserutmalet et animitim vessut laborum veramente poi sai che mi partono i miei attacchi ora lui è particolare cazzo ciao Marco come va la tua vita? bene bene te bene perché sei qui? non so quindi siamo soli a parte il cane siamo soli a parte il cane a parte il quadro quello random di tua madre alla camminciassata di fumo di tua madre ma sapete che hanno dato un nome a quella lingua? cioè quella specie di tu sei fuori come cazzo vuoi? sì l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto allora in che senso? qual è la cosa che non si può dire? scusa esatto no ma di solito no ma di solito quando glielo si chiede dici sempre il sedere cosa col sedere? no anale ma cosa stai dicendo? ma cosa stai dicendo? no 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 non diciamo queste cose troppo no no ah maledetto del sedere che carini cazzo veramente è un figlio di puttana vabbè allora Jody quanto è lungo il tuo pene? no no cioè è normale è perfettamente nella media sono andato a cercare e a volte allora faccia sentire alla live questo auguri di tuo compleanno prima al mondo mi sembra un bravo ragazzo e lo facciamo mamma mia abbiamo Xyodor in ospite scusate 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 siamo veramente un fanboy grazie signore avremo scusate scusate ma vi giuro vi giuro quando mi avevo io un giorno avevo detto o Billy Eilish cioè io vi giuro se dovessi scegliere tra avere l'oxyodorone o Billy Eilish in live che è la persona più famosa d'Italia io vi giuro su Dio che chiederei l'oxyodorone cazzo io vorrei proprio averlo in live bene con le rime sai che sono solito bella per te che hai sbaccato tutto all'Aley Hope Alley Hope già sai che poi ci sto porto questo flow al top perché sai che sopra il tempo rappresento il vero hip hop in ogni caso sai che cosa dico hai detto piccolo Gino piccolo Gino è il soprannome che la tua ragazza dà il tuo pistolino tipo pistolino questa roba te la faccio bisogno non te la concede levati dal cazzo sono Carlo Magno mentre tu sei Bipino al breve alla fine fra non ti conviene smetto quando arriva le sirene levati da cazzo cercavi il cazzo in una squadra di calcio in una squadra di calcio sono il nuovo che avanza rappresento con costanza con sostanza con questa scusa del coronavirus finalmente a sciade l'hanno adottato a distanza la mia ragazza mi è mollato guarda che cazzo mi risata che c'ha raga ma che cazzo mi risata però vabbè io non ho i risari con te no no ti stai zitta perché saranno cazzi miei ok e che cazzo oh ma la fin insomma beviamoci su nel dubbio no no scusa Milena ma veramente non era mia no vi prego ma perché fate questa cosa che tipo morite allora Valero si sta risvegliando no morto di nuovo ma che cosa avete avuto una pozione magica cosa è successo è la droga Elenia l'eroina ah mi trovi per subito che dici che devo di esatto ma ci stanno altre persone che possiamo via per culo in casa no 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 un'altra cosa vabbè ma se lo laverà no faccio il bidet tutti i giorni due volte al giorno no non stava parlando del non stava parlando del culo ah il fatto che io sei ritardataria forse ma puoi farlo veramente mi aiuterebbe un sacco eh vabbè guarda no raga mi sto sentendo serio ma cosa cazzo fai guarda non lo so neanche io si è aperto tutto scusa oh la Roma ha segnato 2 a 1 ma che cazzo me ne frega entri a me me ne frega entri